Dopo il deciso comunicato con cui la Fiorentina ha specificato che la questione franchi per Rocco Commisso è chiusa, il presidente resta nella sede dell'Eccelsior e non parla. Non arrivano notizie neanche da campi sul tema delle infrastrutture, Rocco Commisso è atteso lunedì dal Nardella e poi probabilmente anche un incontro con il sindaco Fossi. Intanto continuano sul fronte del mercato le trattative che porterebbero ad Andrea Conti ma tutto è stato congelato proprio per aspettare un parere del patron. A questo punto lo stadio franchi per la Fiorentina è una questione chiusa e se anche una possibilità di uno stadio a campi si potrebbe aprire, la città sembra essere totalmente dalla parte di Rocco. Mi sembra giusto perché del resto tirava fuori soldi lui e ognuno ha i propri soldi fa quello che vuole, non può essere certamente imposto da altri quello che fare e quello che non fare. A me mi è sembrata e credo la maggioranza dei tifosi una mossa per far stancare Rocco, il che sarebbe molto grave perché mi risulta negli anni che a Firenze non c'è stato mai un imprenditore a parte l'ultimo Pontello che ha messo soldi per la Fiorentina. Speriamo che si rompa le scatole, vediamo, stiamo un po' qui a vedere. Crede la burocrazia sia un po' un problema per commisso in questo momento. Sì perché anche poi sentendo che ci sono anche altri forse problemi anche per il centro sportivo mi sembra che ci stanno dando addosso. Penso che quando si ricomincerà a andare allo stadio se e comunque i franchi non sarà sicuramente agibile al 100%, quindi questa dovrà essere la preoccupazione da ora in poi di tutti i politici e gli enti che hanno preso questa decisione. Quindi mi sembra una cosa molto chiara.